Difficile trovare le parole, difficile commentare l'ennesima sconfitta. Dall'inizio del girone di ritorno il Brescia praticamente non ha mai fatto un punto. Quel che più pesa è la classifica, siamo ad un solo punto dalla zona retrocessione diretta, in piena zona play-out. Il Brescia contro il Modena è lo specchio di se stesso, una partita tutto sommato sufficiente, ma se non ti rimporta, se non cerchi di fare gol difficile, davvero diventa conquistare i tre punti. Ci ha provato Mangraviti, seppur con un fallo di Bisoli e l'arbitro giustamente ha annullato. Brescia che però capitolava verso la fine, quando Papetti alzava troppo il gomito, non nel senso che beveva, ma nel senso che regalava un calcio di rigore sacrosanto al Modena. Calcio di rigore che trasformava Falcinelli nel gol del 1-0 e nell'ennesimo pianto per tutti i tifosi. Ora diventa davvero fondamentale vincere a Benevento, non ci sono altri risultati, una partita da dentro o fuori. Se vinci, sei ancora vivo e hai la possibilità di salvarti, se perdi o anche pareggi, diventa davvero complicato il cammino verso la permanenza nel campionato di Serie B.